Scandalo all'azienda ospedaliera di Cosenza, dipendenti hackeravano il sistema e si attribuivano somme di denaro in 5 a rischio licenziamento. È una notizia che è venuta fuori perché il commissario dell'azienda ospedaliera di Cosenza, De Salazar, che ringrazio, ha denunciato alla Procura della Repubblica, alla Guardia di Finanza, questi ladri. Sì, perché sono ladri i dipendenti delle aziende ospedaliere che rubano le risorse che sarebbero destinate agli ammalati. Questi hanno rubato 100, 200, 300 mila euro, ora lo stabilirà la Procura della Repubblica. Ma io sono disgustato da queste notizie anche perché mi faccio a pezzi ogni giorno per cercare di risollevare questo sistema sanitario che ho preso in mano da due anni e che se fosse un paziente dovremmo dire che era un paziente in coma perché il sistema sanitario calabrese da 12 anni di commissariamento era stato condotto in coma, non erano stati fatti investimenti, assunzioni, niente. Ho cominciato ad assumere i medici, i medici italiani insieme a medici persino cubani. Ho mandato negli ospedali nuove attrezzature, tac, risonanze. Arriveranno a fine mese 60 nuove ambulanze e poi ne arriveranno altre 30 prima della fine dell'anno. L'abbiamo risvegliato dal coma? Certo, quando un paziente è stato in coma per 12 anni non si può pensare che faccia i 400 metri ostacoli in pochissimo tempo. C'è una fase di riabilitazione intensiva, poi semi-intensiva. Però se poi qualche membro di questo corpo, che è il sistema sanitario calabrese, fa di tutto per far continuare il coma della sanità calabrese rubando risorse che sarebbero destinati ai malati, questo è disgustoso. Questi ladri dovrebbero sentirsi fortunati perché lavorano nella pubblica amministrazione in Calabria, in una regione dove ci sono moltissimi disoccupati e invece di lavorare con impegno rubano risorse che altrimenti sarebbero destinate alla cura dei pazienti calabresi. Mi auguro che la procura vada fino in fondo, che punisca questi comportamenti e mi auguro che vengano licenziati presto come è giusto fare.